John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video benvenuti nel calciatore delusione di ogni squadra di questa serie A prima di cominciare come sempre vi invito a lasciare tantissimi 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 mi piace qui sotto e soprattutto di iscrivervi al canale perché per voi magari non sarà importante ma per me è fondamentale inoltre vi chiedo di iscrivere qui sotto la vostra squadra del cuore e vicino secondo voi qual è stato il giocatore delusione dell'anno e perché mi raccomando fatelo vi ricordo di lasciare tantissimi mi piace molto presto vi porterò un altro video di questo tipo e noi andiamo a prendere squadra per squadra ogni club di serie A e andiamo a dire vicino secondo me qual è la grande delusione del campionato quindi vabbè basta chiacchierare basta parlare 3 2 1 e noi partiamo subito e partiamo ragazzi dall'Atalanta per quanto riguarda l'Atalanta ho dovuto a malincuore mettere un giocatore che non è che abbia fatto malissimo però devo dire la verità mi aspettavo qualcosina di più sto parlando di Atebor se dovessi parlare di due ali che hanno spiccato il volo quest'anno all'Atalanta due esteri di centrocampo queste sarebbero Gosens e Castagna e visto che l'anno scorso si parlava tanto 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 e tanto bene di Atebor mi aspettavo che questa fosse la stagione in cui andava a conquistare il mondo invece devo dire che tirando le somme beh così tanto bene non ha fatto ha giocato praticamente sempre ha giocato molto spesso però quando ha giocato non è mai riuscito a spiccare non è mai riuscito a fare quegli assist e quei gol che faceva l'anno scorso e quindi secondo me è una delle più grandi delusioni Bologna è quasi va un pochino sulla cifra spesa il Bologna di Pacchi ne conosce a decine perché molto spesso da quando c'è la gestione americana ha preso giocatori spendendo diversi soldi che poi si sono rivelati dei flop questo è un giocatore che comunque è di futuro certo si è parlato sempre molto bene di lui sto parlando di Scovolsen va detto anche che però il Bologna ci ha speso 6 milioni per Scovolsen quindi adesso un rientro economico o comunque un rientro di prestazione deve avercelo ha fatto un gol quindi non possiamo parlare di sto grande rientro Brescia, eh su Brescia va sul Brescia vado a Balotelli Balotelli forse perché le aspettative erano troppo alte qui ragazzi la delusione la fa l'aspettativa quando Balotelli firma per il Brescia io mi aspetto che Balotelli che vedo al Brescia è un Balotelli che convincerà Mancini a portarlo all'europeo e quindi dico vabbè è fatta nel senso che quest'anno farà 18-19-20 gol e invece poi mi ritrovo con un Balotelli che segna perché qualche golletto l'ha fatto ma non segna tanto ma non è trascinatore ma non è leader devo dire che tirando le somme un pochino ma deluso Cagliari qua sono andato a prendere un giocatore che a me ai tempi del chiavo piaceva tantissimo sto parlando di Walter Birza che però ragazzi a Cagliari non ha funzionato è vero che spesso se non sempre è rotto però il Cagliari è un giocatore over 30 l'ha pagato 2 milioni e mezzo che non sono pochi soprattutto per il Cagliari soprattutto perché è un over 30 e ragazzi quando non è rotto fa panchina quindi se è un giocatore che quando non è rotto fa panchina che cosa sta servendo? cioè davvero si può considerare un giocatore utile purtroppo ahimè perché io ci puntavo veramente tanto devo ammettere che Birza è una delle grandi delusioni di questo campionato vabbè andiamo avanti passiamo alla Fiorentina dai Fiorentina eppure qua eppure qua ce ne sta da parlare ma ce ne sta tanto da parlare ce ne sta tanto ragazzi perché per quanto riguarda la Fiorentina ne ho parlato molto spesso di questo giocatore ne ho parlato veramente tanto ed è uno di quei giocatori stile neto che a un certo punto ha preso e se ne è andato ha deciso di andare in altri lidi è fallito e a differenza di altri questo è tornato sto parlando ovviamente manco a dirlo di Milan Badel e quando è tornato tutti hanno detto vabbè la Fiorentina ha trovato il mediano titolare e invece no perché quando è tornato non è più stato lo stesso credo sarete d'accordo con me che quest'anno Badel ha fatto una stagione flop Genoa ragazzi Genoa purtroppo mi duele dirlo ma devo citare Pinamonti Pinamonti perché si è parlato sempre molto bene di Pinamonti forse ha crescendo troppo le sue qualità perché era un primavera dell'Inter e allora tutti fermi tutti buoni perché è un primavera dell'Inter perché segna tanto Pinamonti ha sempre dimostrato di poter segnare con una certa continuità sono d'accordo però non dimentichiamoci che il Genoa ha sborsato 18 milioni di euro non ha sborsato due spicci ha sborsato 18 milioni di euro e dal momento in cui una società come il Genoa va a pagare quasi 20 milioni di euro per un attaccante giovane deve portarmi qualcosa diciamo che due gol e due assist è un po' pochino è giovane c'ha tutto il tempo del mondo però se proprio devo trovare una grande delusione di questo Genoa l'aveva da di Pinamonti perché io si qualf personalmente da Pinamonti mi aspettavo qualcosa di più Inter ecco ecco qui penso che sia abbastanza scontata la cosa Godin Godin credo sia la delusione del campionato comunque è una delle tre delusioni del campionato da Godin ci si aspettava che conquistasse il mondo da Godin ci si aspettava che fosse il faro centrale dell'Inter mentre abbiamo visto Skrinder che più o meno si è tenuto su quei livelli De Vrij che è nettamente migliorato abbiamo visto anche ragazzi un Godin che è stato distrutto da un giovane quale Bastoni mi aspettavo tantissimo da Godin in questo momento mi sembra stia facendo le vacanze a Milano assolutamente delusione passiamo alla Juventus dai passiamo alla Juventus Juventus qua anche devo andare su un nuovo acquisto sto parlando di Danilo quando è arrivato è arrivato al posto di Cancelo con tanti soldi in tasca tra l'altro perché poi Cancelo è valso una plus valenza importante non indifferente però da Danilo sinceramente mi aspettavo che riuscisse ad essere almeno titolare almeno decente invece non solo non è stato decente non solo ha fatto rimpiangere Cancelo ma addirittura ha perso il posto contro uno che non è mai terzino ragazzi contro Quadrato che era un'ala d'attacco quindi ha fatto il disastro e per me la delusione della Juventus è lui passiamo alla Lazio per quanto riguarda la squadra bianco-azzurra Vavro Vavro che ha giocato poco veramente poco e se gioca poco un motivo ci sarà quando è arrivato a giugno si parlava molto bene di questo centrale si diceva che la Lazio aveva preso il centrale da mettere vicino ad Acerbi che era a livello di Acerbi si parlava di Vavro come un giocatore che avrebbe preso assolutamente la titolarità nella squadra di Inzaghi e invece che fine ha fatto Vavro sarà che c'erano giocatori come Luis Felipe su cui si puntava molto Acerbi che comunque era titolarissimo e altri giocatori già rodati sono d'accordo con voi però Vavro ha giocato veramente poco e quando il mister gli ha concesso qualche sprazzo di partita converrete con me che non è chi abbia proprio brillato come la pietra azzurra il mistero della pietra azzurra vabbè andiamo avanti Lecce e io qua ve l'ho messo già in diverse classifiche ragazzi uno dei miei calciatori preferiti proprio della storia che però non si è mai riuscito ad esprimere Babacar per me ogni anno Babacar è la sorpresa in negativo anche quest'anno non fa abbastanza ha fatto forse un paio di gol anche quest'anno non sono sufficienti il Lecce doveva essere il suo tetto sicuro quello che gli dava la possibilità di esplodere quello che gli dava la possibilità di mettersi in gioco e invece ancora una volta Babacar secondo me esce con una mano davanti e una di dietro e con un fallimento importante alle spalle Milan e sul Milan purtroppo ragazzi devo andare su Pagetà dopo averci pensato tanto devo andare su Pagetà perché io da Pagetà mi aspettavo tanto io ho il sito di magliette vendo magliette e avevo fatto la maglietta di Pagetà che ho scritto il nuovo caca e voi adesso riderete ma quando Pagetà è arrivato a Milano quando ha fatto le prime partite si parlava veramente di nuovo caca poi ha avuto una regressione se dice veramente clamorosa da tutto a niente è diventato un giocatore scarso un giocatore che non riesce a fare quello che vorrebbe fare mi dispiace per me è una grande delusione perché per me è un giocatore veramente forte che può fare qualunque cosa andiamo avanti passiamo al Napoli passiamo al Napoli dai Napoli sul Napoli sul Napoli che cosa devo dire il Napoli ragazzi ha acquistato un calciatore che doveva essere che è arrivato come sostituto di James Rodriguez perché James non sono riuscito a prenderlo hanno preso lui l'hanno stra 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 pagato l'hanno pagato veramente tutti i soldi tutti i soldi che avevano in tasca lo hanno pagato gli hanno dato proprio i soldi proprio a come se piovessero erano tre anni che gli stavano dietro lo volevano tutte le squadre del mondo Lozano Lozano sarà che l'hanno fatto gioco a poco sarà che ci aveva una grande concorrenza sarà che probabilmente anche i cambi di modulo i cambi di allenatore quello e quella però ragazzi da Lozano io mi aspettavo una stagione esplosiva non dico che doveva 50 gol ma una stagione esplosiva invece che ha combinato andiamo avanti Parma ecco sul Parma ho faticato a trovare un giocatore che non che fosse una delusione alla fine ho optato per mettere l'aurini perché mi sono reso conto che quest'anno ho fatto panchina fissa ha saltato 3-4 partite per infortunio e di base ha fatto panchina fissa ed è un giocatore che qualche anno fa è vero che poi è là con l'età ma pochi anni fa faceva il titolare nella Fiorentina giocando comunque anche discretamente bene poi me lo ritrovo a far panchina fissa al Parma ma vabbè Roma ecco qui devo dire un giocatore che probabilmente tutti voi vi aspettavate facesse cagare quindi per voi non è una sorpresa il fatto che abbia fallito però per me si lo è Kalinic non tanto per il fallimento in seno mi aspettavo da Kalinic che diventasse il capocanoniere della nostra storia però mi aspettavo quantomeno di trovare il giocatore che avevo visto a Sprazi a Milano che avevo visto in generale da Milano da Firenze anche un po' a Milano però specialmente a Firenze Kalinic è stato un giocatore comunque importante quindi dico vabbè farà magari quelle 3-4 partite 5-6 partite farà un golletto di culo e va bene così invece mi è sembrato inadatto inadatto non capisce dove sta giocando non capisce dove si trova non capisce che cosa sta facendo veramente è una cosa che mi ha lasciato sconcertato passiamo alla Samp la squadra tra l'altro che ci ha dato Patrick Schick quindi non posso fare altro che ringraziare a Milano al di là di queste piccole battute devo dire Quagliarella voi mi venerete in realtà non è che io voglia paragonare Quagliarella magari a giocatori come Kalinic sia chiaro la delusione è delusione in sé ok quindi non è che voglio fare paragoni Quagliarella prima o poi doveva calare è arrivato il calo e quindi mi ha deluso perché lo scorso anno aveva fatto veramente tantissimi gol tant'è che aveva spaccato qualunque record e quest'anno invece sta calando drasticamente ha fatto 9 gol tra cui la maggior parte sul calcio di rigore fa fatica ci sta ci sta ci sta però devo prenderlo in considerazione quindi la delusione della Samp secondo me tra tutti è Quagliarella Sassuolo Sassuolo ha messo Burabia voi direte ma a chi ha deluso Burabia probabilmente chi l'ha pagato 2.2.000 e comunque non riesce a farsi vedere nemmeno tra quelli che il mister potrebbe anche pensare di schierare è un giocatore che se non gioca un motivo ci sarà è un giocatore che in questo momento non vedo da Sassuolo non vedo nemmeno che potrebbe avere un futuro al Sassuolo e quindi credo sinceramente che Burabia prima o poi andrà non lo so una grande delusione Spal ecco tale padre tale figlio Di Francesco ma in realtà la sorpresa che la delusione di Di Francesco arriva quando mi rendo conto che Di Francesco può diventare veramente veramente un signor giocatore il problema alla base è che non lo diventa perché non fa il salto di qualità perché mi aspetto di più ma lui di più non dà Di Francesco è quello quello è rimasto e sinceramente mi ha deluso questo sinceramente è tutto mi aspettavo di più da Di Francesco questo ha fatto poi sarà che ci avrò col padre ma vabbè Torino Torino ecco anche qua rimango un attimo sulle ali d'attacco sto parlando di Verdi per chi non lo sapesse il Torino ha pagato Verdi 20 milioni di euro che per una squadra come il Torino è veramente una spesa gigantesca è veramente una spesa enorme e Verdi ha fatto un gol e tre assist ora se Verdi fosse un'ala normalissima un'ala di qualunque tipo un gol e tre assist dice vabbè magari avrebbe fatto un altro gol prima di fine campionato un altro due assist faceva tre gol e cinque assist avere un'ala ci sta se non avessero pagato 20 milioni perché dal momento in cui tu mi ha pagato un giocatore 20 milioni significa che quel giocatore ci stai puntando tanto delusione Udinese Udinese e Nestorowski quando Nestorowski si è fatto vedi quando ha fatto quando ha fatto quel paio di scureggi con Palermo abbiamo detto tutti questo ragazzi era un attacco tra l'altro aveva fatto anche Italia-Macedonia sembrava non lo so Ronaldo il fenomeno all'Udinese non combina nulla a parte che gioca poco quando gioca non fa niente ha fatto un gol e un assist per puzza ma aspettavo sinceramente fosse l'attaccante in più dell'Udinese l'attaccante che svoltasse la gara e invece si è fatto superare da tutti da Lasagna da Okaga se ti fai superare da Okaga vabbè Verona concludiamo con il Verona me l'avete segnalato in moltissimi alla fine ho deciso di metterlo qua Stepinski Stepinski non ha cambiato città era uno di quelli che doveva rimanere lì è rimasto lì è passato dal Chiavo al Verona il Verona l'ha pagato 5 milioni e mezzo quindi una cifra anche abbastanza grossa io mi aspettavo che andasse quanto meno in doppia cifra ora non possiamo saperlo perché il campionato non era finito però aveva fatto due gol ragazzi due gol e il nulla ok se tu mi fai due gol vuol dire che non hai fatto nulla e per un giocatore pagato 5 milioni e mezzo da un scato come il Verona che 5 milioni e mezzo non li spende mai a meno che non incassa delle cifre enormi da qualche eccessione allora a mio modo di vedere hai fallito e se devo trovare tra le varie grandi sorprese del Verona di quest'anno una grande delusione questa secondo me è proprio ste pischi poi ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti detto questo ragazzi questo video finisce qui spero che il video vi sia piaciuto vi invito come sempre a lasciare tantissimi piaci voglio ringraziare tutti gli abbonati al canale che stanno passando in questo momento siete sempre di più io vi ringrazio per aver visto questo video ragazzi tantissimi piaci e domani ve ne porto un altro di questo tipo buon channel all'alline come sempre ci vediamo ad un prossimo video un prossimo video